Il trono gay di Uomini e Donne Trono gay Uomini e Donne, Alex Migliorini svela il suo preferito//Vinzuiden Alex Migliorini del trono gay di Uomini e Donne, Claudio Merangolo il suo favorito? Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del trono gay di Uomini e Donne. E in base alle anticipazioni riportate dal blog Il Vicolo dellenevs.it, pare che Alex Migliorini abbia già il suo preferito. Chi è? Lui si chiama Claudio Merangolo a 32 anni, vive a Milano, ma è romano. Ha inoltre diversi amici nel mondo dello spettacolo come è possibile vedere dal suo profilo Instagram. . Tra questi, il chirurgo plastico Giacomo Urtis, il nuotatore Alex Di Giorgio, la cantante Alessandra Amoroso, la ex concorrente del grande fratello Gwendalina Canessa e il modello di Dolce e Gabbana, nonché ex fidanzato di Claudio Sona, Juan Fran Sierra. . E proprio queste amicizie vip hanno fatto storcere il naso a molti fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il motivo? In pratica i supporter della trasmissione sui social hanno espresso diverse perplessità sulle reali motivazioni per cui il giovane abbia deciso di partecipare a Uomini e Donne. . Intanto, il tronista ha annunciato nell'ultima puntata del dating show registrata ieri pomeriggio l'intenzione di portarlo in esterna. Trono gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini sceglierà Claudio Merangolo? . Ma Claudio Merangolo non è stato certo l'unico corteggiatore ad aver colpito il tronista Alex Migliorini. Infatti, il giovane veronese è stato colpito anche da Matteo e Andrea Nascimbeni, con i quali ha già fatto un esterna. . E con il primo, il protagonista del trono gay di Uomini e Donne, in base alle anticipazioni circolate online in queste ore, è sembrato già aver legato molto, mostrando un bel feeling. . . Ma non è finita qua perché, come detto precedentemente, Alex è uscito anche con Andrea. Però pare non ci sia stato il tempo di mandare in onda l'esterna. . Tuttavia, proprio Andrea ha già fatto molto discutere in rete. Il motivo? Andando nel particolare, quest'ultimo è stato protagonista di una clamorosa coincidenza in queste ultime ore, che ha già scatenato il gossip. . . Infatti, il blog Il Vicolo delle Ners.it ha scoperto un leak di Alex a una foto pubblicata da Nascimbeni su Instagram. Motivo per cui molti hanno già iniziato a pensare che i due abbiano avuto modo di conoscersi prima di partecipare al famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. . . Sarà davvero così? Chissà, intanto nonostante uomini e donne non sia ancora andato in onda, i suoi protagonisti hanno già iniziato a far discutere sui social. . .